Dottore commercialista. Bentrovati. Quest'oggi trattiamo delle lettere di fine anno che l'Agenzia delle Entrate sta inviando a decine di migliaia di contribuenti. Ne abbiamo già parlato in passato, abbiamo avuto occasione di parlare di un'altra campagna, sempre fatta da Agenzia delle Entrate, sempre con molte lettere inviate, tra maggio e giugno. Questa volta non si tratta di una lettera informale come la precedente, ma è un questionario che riguarda il redditometro. Il vecchio redditometro, come si diceva, perché il nuovo sarà approvato, si spera, nel 2013. Con queste lettere vengono richieste una serie di informazioni urgenti, perché danno 15 giorni di tempo per la risposta, per l'annualità 2007-2008. Perché tutta questa fretta e perché tutte queste lettere? Al 31 dicembre si prescrive l'annualità 2007, per cui è importante che gli uffici compiano il percorso prima del 31 dicembre. Quindi dopo questi 15 giorni ci sarà, in cui si dovranno appunto presentare documenti e dare spiegazioni che sono elencate nel questionario e nella lettera accompagnatoria. Ci sono una serie di osservazioni sul perché e su cosa ha portato, secondo l'ufficio, allo scostamento che supera il 25% tra il reddito da loro valorizzato e quello invece dichiarato dal contribuente. Dopo questa fase ci sarà una discussione, un cosiddetto contraddittorio con gli uffici, i quali poi decideranno o meno, in base alle valutazioni che faranno, di emettere l'avviso di accertamento. I tempi sono talmente stretti da qui, che stanno passando velocemente i giorni e quindi i 15 di presentazione dei documenti, a dicembre, che verosimilmente, secondo la stampa specializzata, qualche ufficio deciderà di fare comunque l'avviso di accertamento, emetterlo, e poi rimandare alla fase successiva la verifica della bontà o meno dell'accertamento e l'eventuale spiegazione successiva. Quindi, in ogni caso, è verosimile che in questi tempi ci sarà appunto il compimento del percorso. In ogni caso, gli avvisi che vengono inviati sono all'interno di una verifica di circa 35.000 lettere, che è lo scopo dell'Agenzia delle Entrate per il 2012.